Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento dedicato alle attività del Comune di Napoli. L'ospite di oggi è Paolo Mancuso, Assessore all'ambiente e al mare. Buongiorno Assessore. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Assessore, parliamo del biodigestore. Quello di Ponticelli è il primo impianto napoletano al 100%. Quale sarà l'impatto economico e quello sulla pulizia e sul decoro della città? Intanto noi contiamo di accompagnare l'insediamento del biodigestore con un potenziamento del porta a porta sull'intera sesta municipalità. L'impatto economico sarà estremamente significativo perché in questo momento noi spendiamo circa 146 euro a tonnellata di rifiuti per portarli a Caivano, stoccarli a Caivano e trasportarli a Padova. Il rifiuto organico, sto parlando della frazione organica. Questa frazione organica verrà invece per 30.000 tonnellate, cioè la metà di quella che oggi è la produzione cittadina, verrà oggi trasformata in energia e in compost al prezzo di circa 40 euro a tonnellata. Quindi molti più di 30.000% avrà una cifra significativa che verrà ovviamente sfalcata dal tassatario che oggi pagano i napoletani. E quando pensa che potremmo vedere i primi effetti? Guardi, siamo pronti alla gara. La gara avrà un termine di sei mesi. Io penso che per fine anno, diciamo per essere prudenti un anno, l'impianto potrebbe essere in produzione. Un argomento collegato al biodigestore è infatti l'investimento sulla differenziata a Ponticelli. Guardi, è proprio una di questi giorni della settimana scorsa l'approvazione in giunta di una delibera con la quale è stata approvata con la Regione Campania un finanziamento di quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 700 mila per la precisione, per l'assunzione di 241 persone che per sei mesi saranno a carico della Regione Campania perché verranno anche assorbite delle rimanenti quote dai consorsi di Bacino. Ma noi pensiamo che circa 200 invece potranno essere messi a concorso esterno. Questo significa che noi potremo sulla tutta la sesta municipalità lanciare la campagna del porta a porta con un investimento anche di risorse, non solo in uomini, ma anche mezzi per la raccolta e soprattutto quello che a noi preme di più, formazione, informazione, mediazione territoriale con le famiglie, con le comunità, con i condomini. Un altro argomento molto sentito adesso che ci avviciniamo alla stagione estiva è quello del mare. Cosa si sta facendo per restituire il mare alla città? Abbiamo la necessità di far partire per tempo i lidi, nel senso che l'anno scorso sono partite situazioni di emergenza. Per far partire per tempo i lidi dobbiamo garantire la sicurezza geologica e da un lato la sicurezza meteomarina dall'altro. Su questo con il Consorzio Unico di Bacino stiamo lavorando per aggiornare delle indicazioni che ci erano date e probabilmente arriveremo a un investimento con l'Università Partenope per una filiera di sicurezza, di messa in sicurezza delle condizioni meteomarine. Per quello che riguarda invece le spiagge libere dobbiamo pensare che da una parte il versante occidentale di competenza ovviamente del sindaco quale commissario straordinario resterà in atto l'attività di bonifiche che sono in corso. Sul versante orientale siamo riusciti a ripristinare una linea di finanziamento per la bonifica delle acque di falda, per interventi sui lidi e pensiamo che con la pulizia delle acque di falda con l'attivazione del depuratore, anche quello a breve, sull'albio di bolla noi riusciremo a ridurre drasticamente l'inquinamento delle acque marine che finora hanno impedito la balneazione. La pulizia degli arenili al momento è affidata ad alcune cooperative, è un servizio che sarà potenziato? Sicuramente intanto stiamo convertendo alcune cooperative che facevano altro sul versante della pulizia dei lidi. Purtroppo il personale dell'amministrazione scarseggia, ma per esempio un altro investimento che abbiamo in campo è quello del recupero delle risorse dei percettori di reddito che come sa sono obbligati a rendere un servizio 8 ore alla settimana. Viste gli investimenti sulla zona orientale della città è possibile immaginare un futuro anche per quanto riguarda il litorale? Guardi, intanto noi stiamo con l'assessore Cosenza e con l'assessore Lieto immaginando una linea di costa totalmente percorribile, ciclabile e percorribile in passeggiata dal ponte dei Francesi fino a Pietrarsa. Recuperando spiagge e speriamo balneabilità avremo ulteriori risorse e un punto su cui stiamo riflettendo con i due assessori è il recupero del progetto di Porto Fiorito cioè immediatamente a ridosso di quella che è stata la colmata che è stata realizzata dall'autorità portuale si potrebbe immaginare una marina che abbia una recettività di circa 300-400 posti barca che è un settore nautico di cui la città ha estremamente bisogno. Oggi solo 6 barche su 10 dei napoletani trovano posto nei porticcioli napoletani. Assessore, la ringrazio per aver preso parte a questo approfondimento. Noi diamo appuntamento a tutti per i prossimi incontri. Grazie, arrivederci.